Multe più salate che raddoppiano per le soste selvagge e quasi triplicano per chi guida al telefonino, ma anche una vendetta contro i nemici giurati di tanti automobilisti, gli autovelox. Il nuovo codice della strada, che inizierà a breve il suo percorso in Parlamento, cambia nel suo secondo passaggio a Palazzo Chigi per recepire le indicazioni arrivate da regioni e comuni. Costerà molto caro usare il cellulare alla guida senza auricolari o modalità a viva voce, fino a 1.697 euro, due mesi senza patente e 10 punti alla prima violazione. L'esborso salirà fino a quasi 2.600 euro per i recidivi. L'obiettivo del governo è convincere a rispettare le regole anche i guidatori più riottosi, ecco quindi sanzioni sempre più dure con il ripetersi delle violazioni. La multa per eccesso di velocità supererà i 1.000 euro per chi viola per due volte i limiti in un centro abitato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e la delega per la revisione del codice della strada. Interventi in bandiera del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a cui sono andati i ringraziamenti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono provvedimenti quanto più urgenti, secondo la Premier, viste le troppe morti anche di giovani ragazzi sulle nostre strade. La volontà dell'esecutivo è quella di arrivare all'approvazione definitiva del testo entro la fine dell'anno. Il governo vuole tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco. Introduce quindi il divieto assoluto di assumere alcolici a seguito di condanne per reati specifici e l'obbligo di installare un dispositivo che impedisce al motore di accendersi se il tasso alcolemico del conducente è superiore allo zero. La stretta riguarda anche i neopatentati, a cui sono state interdette per tre anni le auto di grossa cilindrata, e i monopattini per cui scatta l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Una delle misure più attese è senza dubbio lo stop agli autovelox selvaggi usati solo per fare multe.